Napoli-Udinese 0-0 la diretta. Ci prova Beto, il primo tiro della partita è dell'Udinese, troppo debole. È partita la sfida tra Napoli e Udinese al Maradona. Napoli, 4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Matias Olivera, Anguissa. Lobotka, Zilinski, Lozzano, Osenena, Elmas. Udinese, 3, 5, 2, Silvestri, Perez, Biola, Ebosse, Eizibue, Lovric, Ualace, Arslan, Pereira, Beto, Deulofeu. La partita tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, per vederle in TV servirà a scaricare l'app di Dazn su una Smart TV compatibile. O in alternativa a utilizzare dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast oppure console PlayStation e Xbox. Un'altra soluzione, prevede l'utilizzo del Team Vision Box. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn. Inoltre, può attivare Zona Dazn e vederla sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta Hit. 3, 5, 2, Silvestri, Neuem Perez, Biola, Muitimic, Ebosse, Eizibue, Lovric. Ualace, Arslan, Pereira, Beto, Deulofeu. 4, 3, 3, Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Silinski, Lozzano, Osemena, Elmas.